...centrale, centrale, del nord, gente, a portare le note di questo format. Noi stasera siamo qua per mangiare, per conoscere nuovi luoghi, ma soprattutto, come dico sempre io, noi siamo qua per risvegliare emozioni. Persino da Modena, da Maranello. Noi stasera siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco. Ragazzi, quella sensazione che si sente qualche volta nella vita, e qualche volta, per vari motivi, ce la dimentichiamo. Da Perugia! Stasera noi siamo qua per risvegliare. Come faremo risvegliare per fare una stagione? Voi non dovete salutare, solamente con la persona che viene a delle vicinanze. Dovete guardarvi attorno. Quando vedete una persona che vi piace, uomo e donna che sia, dovete prendere il nostro giardiniere da Ritamiglia. ...che trovate in tabla, e scrivere un messaggino. Un messaggino con quello che vi è ciò al cuore. Adesso troveremo anche qualche uomo che viene qua. Teoricamente i vostri sarebbero tutti pieni. Giorgio, buonasera. ...succede che qualcuno... ...sui 120. ...l'omino. ...è una piccola parte, come al solito, prenotano, poi non vengono. ...siamo lo stesso 120. ...come facciamo a rinpegliare il farfalle? ...quando vedete la persona che... ...biamo lasciato tutto lì. ...se arrivano siamo qua. ...e scrivere un messaggino con quello che vi è ciò al cuore. Guardate in tavola, c'è vita la carta, la pecca. Scrivete quello che vi è ciò al cuore. Vi firmate con il vostro... ...